Grazie, buon pomeriggio, è un piacere partecipare a questa nuova edizione della Healthy Aging Week della Fondazione. Ringrazio gli organizzatori per questo invito. Quello che presenterò è una parte di questo nuovo programma di ricerca a cui è stato fatto riferimento, finanziato dai fondi europei Next Gen Europe, che vede partecipare l'Università Cattolica, ma soprattutto un programma di ricerca fortemente interdisciplinare, che cerca di mettere assieme competenze mediche, delle scienze sociali, esperti di intelligenza artificiale, urbanisti, architetti, e cioè quello che anche la giornata di oggi, insomma le giornate di questo convegno che hanno preceduto, cioè l'invecchiamento è un problema così multidimensionale che non possiamo pensare di approcciarlo e di risolverlo semplicemente guardando ad aspetti specifici. Quello di cui mi occuperò oggi, mi fa piacere perché alcune delle domande che sono state sollevate verranno toccate, non so se avrò una risposta ma sicuramente verranno toccate da questo intervento, riguarda proprio la sfida dell'invecchiamento e come questa si confronta con il welfare, il welfare come l'abbiamo conosciuto e le sfide del welfare che sono quelle che ci attendono. Quello di cui vorrei occuparmi è riprendere alcuni fatti molto brevemente, molte cose per fortuna sono già state anticipate ed illustrate molto bene da Alessandro Rosina, cercare di illustrare quali sono le sfide che ci attendono. E poi mettere l'Italia di cui mi occuperò prevalentemente e poi invece l'amico e collega Axel Borsupanna si occuperà più della prospettiva europea nell'ultimo intervento. Cercare di capire come l'Italia si colloca in Europa, insomma nel mondo, rispetto ai bisogni. Quali sono i bisogni a cui il welfare italiano deve dare risposta? E cercherò, ovviamente il tema è troppo complesso per poter essere affrontato nella sua interezza, quindi farò semplicemente dei flash, quindi degli approfondimenti che però spero siano quelli importanti. Ma soprattutto cogliere la sfida dell'invito di Alessandro Rosina e cioè a ripensare quali sono le prospettive, quali sono le sfide per il futuro del welfare, per le future generazioni, perché l'obiettivo deve essere quello primariamente di mantenere ma possibilmente anche di migliorare il benessere degli individui e delle future generazioni. Allora qualche fatto è già stato ricordato, su questo non insisto, l'Italia è il paese più anziano d'Europa, è uno dei paesi in cui la quota di anziani è maggiore al mondo. Tuttavia la qualità dell'invecchiamento non è molto buona, nel senso che l'aspettativa di vita a 65 anni, Alessandro Rosina ci ha fatto vedere anche l'aspettativa a 80 anni, è di un certo numero di anni, ma se andiamo a guardare, questi medici lo ricordano sempre, la vita in buona salute, ecco questa è circa la metà rispetto all'aspettativa di vita, ma soprattutto questa progressione nell'invecchiamento si traduce anche in una quota di anziani che non sono autosufficienti e quelle progressioni geometriche, non molto forti, che vediamo negli indicatori di dipendenza, si trasferiscono anche in queste necessità, nelle malattie croniche, nella necessità di prestare assistenza. L'altro grande tema, i fatti da mettere sul piano prima poi di passare al welfare, è quello che riguarda il mondo del lavoro. Allora, su circa 36-37 milioni di italiani che sono in età da lavoro, circa il 60% sono occupati. Badate bene, questo è un record assoluto perché in quest'anno e negli ultimi mesi abbiamo raggiunto la quota di tasso di occupazione più elevato degli ultimi decenni. Tuttavia, siamo al primo posto per quello che riguarda i giovani inattivi, Alessandro Rosina ha ricordato la dispersione scolastica, ci sono moltissimi giovani, una quota enorme di giovani in Italia, che come si dice non fanno nulla, non sono impegnati nell'istruzione, non sono impegnati in percorsi di formazione post, sono sostanzialmente inattivi. Ma soprattutto un lavoratore su quattro abbandona prematuramente il lavoro per motivi di salute. L'altro grande tema che è sul piatto è quello della pensione. Come si diceva una volta Alessandro, la messa a riposo, tu hai ricordato che dopo i 65 anni la pensione era la messa a riposo. Ebbene, tra gli anni 50 e gli anni 70, il nostro baby boom di cui si parla molto, sono nati quasi la metà degli italiani. Nei prossimi anni, prossimi decenni, andranno in pensione quasi 8 milioni di lavoratori, molti del settore medico-sanitario, quindi questo sarà una vera bomba. circa 364 mila all'anno, cioè quasi mille pensionati al giorno. E l'età di pensionamento media, ancora oggi, è inferiore ai 62 anni. Allora, i nostri politici a lungo hanno ignorato questa transizione demografica, i problemi del welfare a cui si mettevano le pezze solamente nei momenti di crisi, ma sembra che adesso questo tema della transizione demografica e della denatalità, di cui tutti, molto spesso Alessandro Rosina ci ricorda e anche altri demografi, comincia a entrare nel dibattito. Tant'è che una frase attribuita al ministro Giorgetti al recente meeting di Rimini, prima di fare l'attuale legge di bilancio, era che, data questi numeri della denatalità, non c'è riforma del welfare che tenga, cioè i conti non possono tenere con questa denatalità. E quindi questo è il tema, cioè questi trend demografici rendono molto difficile sostenere il welfare. E se non si risponde, se non si fa qualcosa, questi cambiamenti demografici, e ce l'ha ricordato anche Alessandro Rosina rispondendo alla domanda, avranno inevitabili conseguenze per le famiglie, per la coesione sociale, per le finanze pubbliche. Allora c'è un tema molto, diciamo, delicato, ed è che la transizione demografica è un fenomeno lento, è come un piano inclinato, ogni tanto si scivola, ma si scivola piano. E questo, diciamo, per la politica che ha un orizzonte molto a breve termine, fa sì che il problema venga sempre rimandato. Sì, però arriva un certo punto in cui i nodi vengono al pettine, ma il rovescio della medaglia è che così come lentamente si scende nel piano, lentamente si riescono a invertire questi fenomeni. Quindi Alessandro Rosina ce l'ha detto, il tema della dinatalità non è che da domani poi cominciamo a fare più figli e abbiamo risolto il problema. Eh no, ci possono volere decenni. E allora a questo scenario si aggiungono e si aggiungeranno ai prossimi decenni delle sfide epocali che cambieranno completamente il mercato del lavoro, il welfare, ma molto anche i nostri stili di vita, che sono la transizione verde, la transizione digitale e quindi il welfare che noi conosciamo andrà ripensato. Allora vorrei farvi condividere con voi i principali risultati di un'indagine che l'Ocse conduce che si chiama Risks Dead Matter, cioè quali sono i rischi che contano, cioè che cosa preoccupa le persone, e qui mi riferisco alle persone di ogni età in Europa. Allora è curioso perché in questo grafico vengono riportate tutta una serie di rischi per cui i soggetti possono desiderare o sicuramente desiderano di essere assicurati o dallo Stato o da qualcun altro. E questi rischi sono il rischio di ammalarsi, di diventare disabile, di perdere il lavoro, di non avere un alloggio adeguato, di arrivare alla fine del mese con i mezzi, eccetera, eccetera. Ebbene, qui vedete un po' una carrellata di come i paesi Ocse si collocano, ma ai primi due posti, concentrandomi sull'Italia, ci sono il rischio di ammalarsi o di essere inabile e il rischio di non poter godere di una cura, di una presa in carico di long term per se stessi o per i membri della propria famiglia. E se andiamo a guardare, questo è molto simile nelle risposte sia per gli uomini sia per le donne, nonostante le donne in media vivano più a lungo. Vedete che così non è. In altri paesi la preoccupazione principale è quella delle risorse economiche, in altre può essere la violenza, la criminalità, perdere un posto di lavoro. Bene, le preoccupazioni degli italiani sono principalmente malattia o disabilità. Una caratteristica italiana è che gli individui si affidano, e questo per molte scelte, ma anche per il welfare, più agli amici e alla famiglia, più che allo Stato, in cerca di aiuto. Quindi quando si domanda alle persone come pensi di affrontare questa difficoltà, le persone rispondono principalmente in Italia un altro adulto nel nucleo familiare che potrebbe lavorare di più per aumentare il reddito e affrontare le sfide, oppure in un qualche modo la famiglia allargata può fornire sostegno finanziario o aiuto. Quindi il ricorso è, diciamo, alle reti informali, alla famiglia, agli amici, ai parenti. La cosa che però lascia un po' più perflessi, e questi dati sono sempre relativi all'Italia, è che gli individui sono molto incerti riguardo alle possibilità che hanno di accedere ai benefici pubblici. Cioè non lo sanno, non sanno se hanno le, come dire, se la, soprattutto per quello che riguarda i benefici che sono soggetti alla verifica dei mezzi, ecco, molto spesso la gente non è informata, non sa se ne ha diritto, ma soprattutto se ne ha diritto più della metà, e più della metà pensa che anche se ne avesse diritto il processo sarebbe così complicato che alla fine non ne vale la pena. Ma allora che cosa è che vogliono di più? Beh, gli italiani vogliono che si spenda di più, e ce l'ha detto anche Alessandro Rosina, soprattutto in salute, però non vogliono pagare più tasse. Quindi capite che questo è una contraddizione, perché se voi chiedete a qualcuno se vuoi più servizi sanitari, è ovvio che tutti dicono di sì, ma se poi gli chiedete, sì però, per avere servizi migliori o più persone dovrebbero pagare le tasse, in Italia non le pagano, oppure chi le paga dovrebbe pagarne di più, a questo punto la gente non è più così entusiasta. Allora, alcuni brevi flash su che cosa, cioè quali sono i temi, quindi il lavoro, le pensioni, e abbiamo visto la preoccupazione che sono la salute e le cure di lungo periodo. Allora, un primo mito da sfatare è che non è vero che in Italia la quota della spesa sociale sul PIL sia più bassa che in altri paesi. È superiore alla media oxe ed è in media con quella, diciamo, del resto dell'Europa. Quindi come quantità di spesa ci siamo. Ma allora quali sono le leve per cui si deve intervenire? Cioè i governi devono intervenire per garantire questo invecchiamento in salute e attivo. Ebbene, sono essenzialmente tre, e cioè sono quello di mantenere una popolazione anziana sana e attiva, cercando di far fronte ai costi sanitari e soprattutto quelli che sono implicati dall'assistenza a lungo termine. Il fatto che, e su questo tornerò, vivere più a lungo significa anche poter lavorare più a lungo. Quindi in Italia non è che gli anziani non lavorano fino all'età anziana, è che lavorano in modo totalmente informale. Su questo tornerò. Sono impegnatissimi. Solo che non vengono remunerati per questo. E su questo bisogna fare qualcosa. E cioè bisogna riconoscere anche il lavoro non pagato degli anziani, che sia volontariato, che sia assistenza informale. E questo è molto importante. Ma soprattutto le leve politiche per un futuro welfare dovranno essere politicamente accettabili, perché implicano una forte redistribuzione tra chi riceve i trasferimenti e chi invece li fornisce. Alessandro Rosina ce l'ha detto. Se questa forbice si allarga troppo, questa redistribuzione sarà sempre più forte. Quindi bisogna migliorare quella che si chiama la cost effectiveness, cioè finanziamenti e il welfare che siano sostenibili e che siano in grado di fornire i futuri servizi che servono. Quindi bisogna ripensare a quella che anche Alessandro Rosina ha introdotto, cioè una silver economy, un'economia d'argento dove gli anziani hanno un ruolo per quello che riguarda le preferenze, per quello che riguarda i bisogni, per quello che riguarda i consumi. Allora, live longer, work longer. Mi piace riprendere una delle domande che è stata fatta, e cioè questo non vuol dire per tutti, ma sicuramente moltissime persone all'età anagrafica che Alessandro Rosina ha richiamato più oltre, 65 anni, possono tranquillamente continuare a lavorare, sia per le condizioni di salute, ma sia per, come dire, l'attività, la forza che hanno. Ora, qual è il punto? Il punto è che non è che si può fare a 65 anni lo stesso lavoro che si faceva a 30 o 35. Quindi un sistema, un mercato di lavoro totalmente ingessato in cui tutti fanno lo stesso lavoro fino alla pensione non consente di gestire questo work longer. Quindi le aziende, il mercato del lavoro deve capire che così come voi medici parlate di One Health, ci deve essere anche sul mercato del lavoro un programma che deve essere integrato e che oltre alla produttività metta al centro la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro. E badate bene, questo non è una novità, perché molti paesi l'hanno già fatto. Il Giappone, che è un paese che invecchia velocemente e ha una quota di anziani come noi, ha inserito proprio nelle loro grandi aziende programmi di gestione della salute e questi hanno avuto effetti non solo sulla produttività delle imprese ma sono riusciti ad ottenere attraverso questi programmi integrati e anche di accreditamento delle imprese che fanno queste iniziative di certificazione per i datori di lavoro come datori di lavoro che avevano questi programmi hanno avuto risultati enormi sulla percentuale di fumatori, su una riduzione dei casi di ipertensione e iperglicemia, cioè è necessario uno sforzo anche per riprogettare il lavoro, cioè avere dei programmi che consentano di trattenere i lavoratori che hanno qualche fragilità. Quelli che non possono lavorare ovviamente deve essere possibile andare in pensione. E ci sono tanti modi per farlo, ci sono misure di attivazione per cambiare il posto di lavoro, quei cosiddetti bridge jobs, ormai abbiamo una quota importante di persone che lavora a distanza con quello che chiamiamo smart working, cioè ci sono veramente molte cose che si possono fare, ma un aspetto molto importante è che il lavoro degli anziani è enorme, moltissimi anziani forniscono importanti prestazioni retribuite ma soprattutto non retribuite. Il contributo economico dell'anziano è fondamentale, il nostro Paese si regge su una rete informale di cura che viene svolta all'interno delle famiglie allargate. I nonni si occupano dei nipoti, i figli si occupano dei genitori anziani, ma tutto questo lavoro di cura non passa per il mercato, è tutto informale e non è neanche professionalmente molto formalizzato. Quindi è necessario dare un ruolo, riconoscere il lavoro retribuito, ma soprattutto il lavoro non retribuito. cioè politiche che consentano di riconoscere e fornire un'inclusione ai prestatori di assistenza. C'è bisogno di formazione, c'è bisogno di trasferimenti, c'è bisogno di aiuto da questo punto di vista. L'altro punto importante è quello della pensione. Allora, senza fare una storia troppo lunga, però live longer, work longer, in Italia a fronte di un'aspettativa di vita che anche come ci ha fatto vedere Alessandro Rosina cresceva continuamente, l'età media di pensionamento per decenni ha continuato a ridursi. Quindi questa forbice tra l'aspettativa di vita e quando si andava in pensione si è sempre più allargata finché si è arrivato a un punto in cui non era più sostenibile. Quindi una riforma importante negli anni 90 ha cambiato le regole del gioco. E da lì le cose sono un po' cambiate, ma non molto. Negli ultimi decenni quasi ogni governo che è andato al potere ha deciso di fare una riforma delle pensioni. In realtà di vere riforme delle pensioni ce ne sono state pochissime. Potremmo dire forse solo due. La prima, una riforma importante, ma ha rimandato l'aggiustamento al futuro. Quindi non ha cambiato le cose per chi stava per andare in pensione e poi ha detto vabbè, ma poi ce ne occuperemo tra 20-30 anni quando andranno in pensione i giovani. Quindi la vera riforma delle pensioni è stata la riforma Sacconi-Fornero. Mi fa piacere vedere Elsa Fornero che è qui con noi oggi perché la tanto vituperata e criticata riforma Fornero è l'unica riforma che tutti i governi successivi hanno criticato ma che nessuno mai si è sognato di cambiare. Si è cercato di mettere una toppa qua e là, fare delle finestre, fare delle quote, ma alla fine viene l'impianto di quella riforma che dice semplicemente guardate che se si vive più a lungo si può lavorare più a lungo e che l'anno diciamo ufficiale in cui si va in pensione, non quella anticipata ma la pensione, può essere indicizzato, adeguato con l'aspettativa di vita. Live longer, work longer. questo però e questo si lega anche alla domanda che è stata fatta prima, non vuol dire che tutti possono andare in pensione a 70-75 anni, quindi ci deve essere flessibilità. Allora qual è il problema che abbiamo oggi e poi che cosa si può fare? Allora la verità è che i padri, tutti quelli che sono nati prima del baby boom hanno beneficiato di entitlements, cioè di diritti previdenziali e con questi diritti sono andati in pensione anticipatamente, guardate fino agli anni 90 si andava in pensione con 55-60 anni e con pensioni molto generose. Tutte le riforme che si sono succedute negli ultimi anni sono state finalizzate a ridurre la spesa pensionistica per le generazioni dei figli e dei nipoti senza modificare quella dei padri. Allora di fatto e questo è un punto molto controverso nel dibattito che gran parte della spesa pensionistica che viene attualmente erogata alla generazione dei padri è una spesa assistenziale perché dietro non ci sono sufficienti contributi per pagare quelle pensioni. Quindi la vera e propria pensione verrà solamente nel futuro quando però i nostri giovani si ritroveranno che sulla base dei contributi che hanno versato perché le carriere sono più incerte sono più interrotte si comincia a lavorare più tardi con un impiego stabile le pensioni saranno molto basse. E allora che cosa fare? Ecco la domanda che è stata sollevata prima dice ma questa differenza tra età anagrafica e età biologica ha senso? No bisogna consentire alle persone di andare in pensione quando preferiscono e deve essere una scelta ma non deve essere una scelta come adesso che andare in pensione è come vincere l'otto avete visto la questione dei medici recentemente tutti che corrono perché se aspetti un mese perdi 10.000 euro l'anno che accumulate per l'aspettativa di vita sono una cifra enorme non è possibile l'impegno che uno Stato prende nei confronti dei cittadini deve essere credibile non si possono cambiare le regole del gioco continuamente perché sulla base dell'età a cui si va in pensione le persone fondano le loro decisioni di risparmio di investimento anche di fecondità quindi è necessario incoraggiare non obbligare ma incoraggiare i lavoratori ad avere carriere più lunghe e soprattutto maggiore flessibilità nella transizione dal lavoro al pensionamento è necessario poter conciliare nelle fasi diciamo più avanzate della propria carriera lavorativa lavoro e cura e soprattutto consentire di combinare pensione e reddito di lavoro allora non c'è niente di nuovo da questo punto di vista molti paesi questo lo fanno già anche noi abbiamo provato a farlo ma non ha funzionato perché per motivi diciamo di sostenibilità finanziaria queste misure in Italia vengono fatte ma sono estremamente penalizzanti e le persone non le scegliono invece dovrebbe essere quasi indifferente per un lavoratore scegliere di andare in pensione oggi o andare domani magari si potrebbe anche incentivare un pochino se vai in pensione un po' più tardi la tua la tua pensione ha un vantaggio non entro nel merito ma questo solo per dirvi che questa idea del pensionamento graduale è un impianto che è ben connaturato ben saldo nelle esperienze degli altri paesi paesi delle esperienze più varie da paesi dell'est a paesi dell'Europa centrale persino paesi dell'est in cui per prolungare la vita lavorativa vengono fatte politiche di reimpiego aiuti e sussidi per la riprogettazione del lavoro che viene sostenuta con delle sovvenzioni allora l'altra grande questione è quella della salute degli anziani dei fattori di rischio e soprattutto della prevenzione in questi giorni c'è stato ricordato che i fattori di rischio sono molti che gli anziani ne hanno molti questo poi si traduce in multimorbidità non autosufficienza ma la dinamica demografica fa sì che lo stock degli anziani non autosufficienti cresca in modo non proporzionale ma in modo più che proporzionale e tutte le misure che abbiamo ora di presa in carico coprono solamente una parte molto piccola della domanda ma allora cosa fare? beh la risposta è cerchiamo di deistituzionalizzare l'offerta per gli anziani cerchiamo di farle invecchiare di curarli a casa però anche qui bisogna stare attenti perché per esempio l'esperienza di altri paesi mostra come il il caso della Svezia in cui i tagli all'assistenza istituzionale non sono stati compensati da un aumento dei servizi di assistenza domiciliare e quindi la forbice diciamo tra i posti disponibili e la domanda ha fatto sì che poi come in Italia l'unica risposta disponibile è quella dell'informalità e questo è quello che non vogliamo allora quali prospettive? e mi avvio alle conclusioni allora il welfare serve ad assicurare i rischi non li può ridurre ma può ridurre il disagio che le persone hanno ecco diciamo che negli ultimi 15-20 anni il contesto complessivo non ha fatto molto per ridurre l'incertezza il dizionario britannico Collins ha creato questo neologismo perma perma crisis perma crisi cioè viviamo in un contesto di crisi permanente e questo francamente non aiuta le persone nell'affrontare serenamente le scelte e il welfare serve proprio a questo serve a proteggere e a sostenere gli individui in periodi di incertezza assicura tutte quelle sfere il lavoro cioè la perdita del lavoro la perdita del reddito la perdita di consumi quando si smette di lavorare e si pensionati il rischio di ammalarsi e di non essere autosufficienti allora i trasferimenti la redistribuzione sono fondamentali soprattutto quella da una generazione all'altra o da un gruppo sociale all'altra perché ci consentono di stabilizzare economicamente ridurre i disequilibri contrastare le diseguaglianze il problema è che questa redistribuzione nei fatti è stata usata e viene tuttora usata dal potere politico che usa il welfare come scambio politico per la propria sopravvivenza e che questo crea vincitori e vinti capite dove i primi i vincitori sono quelli che corrispondono a gruppi di influenza che proteggono le proprie rendite di posizione mentre i secondi sono i gruppi che sono scarsamente rappresentati nelle istituzioni tipicamente gli individui più fragili che sono quelli che hanno più bisogno i disoccupati i lavoratori precari i giovani i malati gli anziani quindi è proprio questi a cui bisogna pensare per impostare un nuovo welfare allora il nuovo welfare però deve rispondere anche a nuove crisi e non è solo la transizione demografica quindi non solo l'allungamento della vita lavorativa che in Italia implica anche che gli ultimi anni di vita sono anni in cui la salute non è poi così buona i rischi di malattie croniche dell'invecchiamento ma soprattutto queste nuove sfide a cui ho accennato che al momento non abbiamo ancora la percezione della contezza l'automazione la delocalizzazione la transizione verde anche questi processi creeranno necessariamente dei vincitori e vinti e quindi non si può lasciare agli individui fragili sopportare il costo di questo bisogna pensarci prima bisogna che il nostro welfare sia in grado di guidare questa transizione ma allora se siamo un paese indebitato se il welfare non potrà essere più finanziato che cosa possiamo fare? Allora ho recuperato una citazione da Hobbes dal Leviatano che dice non si deve lasciare alla carità privata ma le leggi dello Stato devono provvedere a fornire un aiuto nella misura richiesta dalla necessità della natura perché ammalarsi può essere anche determinato da una scelta della natura che cosa si può fare? Beh da questo punto di vista il welfare aziendale soprattutto per quello che riguarda il lavoro il lavorare più a lungo è importantissimo per migliorare la vita dei lavoratori quello che si chiama benessere organizzativo e il legislatore negli ultimi anni ha sostenuto con una fiscalità di vantaggio l'erogazione delle imprese ai lavoratori sotto forma di welfare aziendale allora ad oggi non ci sono ancora evidenti segni di una sostituzione cioè lasciare fare al privato quello che il pubblico non può fare però il rischio che questo succeda in futuro è molto alto in Italia le imprese intervengono principalmente per quello che riguarda i fondi pensione i fondi sanitari privati i rischi sono notevoli soprattutto per il fatto che noi abbiamo molte piccole e medie imprese di che cosa si occupa il welfare aziendale ma di tantissime cose si occupa di previdenza di assistenza di banche del tempo di iniziative culturali e quindi sono tutti aspetti che già sono rilevanti ma che potrebbero essere potenziati allora l'ultimo punto e chiudo a che cosa dovremmo cercare di puntare si parla tanto in medicina della medicina personalizzata cioè delle cure che siano disegnate proprio sull'esigenza dell'individuo ebbene il welfare dovrebbe fare la stessa cosa cioè dovremmo superare il riferimento dell'età anagrafica dovremmo superare la categorialità che vuol dire più di 65 anni lavoratore dipendente lavoratore autonomo bisognerebbe superare tutto questo che rende profondamente iniquo il nostro welfare e bisognerebbe soprattutto passare da un welfare di stampo puramente assistenziale a un welfare che responsabilizzi la persona molto spesso gli economisti usano il termine di empowerment cioè dotare la persona della capacità di affrontare questi rischi ma ovviamente sostenendola e allora che cos'è il welfare della persona è destinare risorse ai soggetti che hanno bisogno e che non ne hanno la possibilità Alessandro Rosina ha ricordato le politiche attive collocamento di tutti quelli che possono farlo ma non categoriale quello che dicevo prima non uguale per tutti gli autonomi ma profilato per le effettive esigenze e quindi dobbiamo arrivare a un welfare in una sorta di logica della presa in carico dei bisogni alla quale però bisogna fortemente connaturare una pari responsabilità dei destinatari cioè bisogna vincere questo azzardo morale del fatto che se io ricevo un sussidio di disoccupazione per sei mesi per sei mesi non faccio nulla e poi al sesto mese mi metto a cercare il posto di lavoro ecco del malato che è un fumatore che continua ad essere curato e che aspetta solamente che il medico gli dica guardi che rischi la vita per smettere di fumare cioè la prevenzione e la consapevolezza deve entrare a far parte di un intervento che deve essere in parte culturale in parte deve essere formazione e sono molte delle cose che sono state discusse anche in questi giorni io ho finito grazie 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 a tutti grazie a tutti